E lei? Sara Connor, sono il tenente Trussler. Senza tenente, non mi faccio aspettare, non mi passi un altro dipartimento. Non lo farò, stia tranquilla, si calmi un po', può dirmi dove si trova. Sono in un bar chiamato Tech Noir. Sì, lo conosco, è sulla Pico. Sta bene ora? Sì, ma non voglio uscire di qui, credo che ci sia un uomo che mi segue. Ok, ora ascolti Miss Connor, mi ascolti molto attentamente. È in un pubblico posto, quindi sarà sicuro finché arriviamo noi, ma resti in vista. Non vada fuori e non vada la tua letta. Manderò un'auto per mezzo minuto. Ok. Non vada fuori e non vada la tua letta. No vada fuori e non vada la tua letta. No vada fuori e non vada la tua letta. No vada fuori e non vada la tua letta. No vada fuori e non vada la tua letta. No vada fuori e non vada la tua letta. No vada fuori e non vada fuori e non vada la tua letta. No vada fuori e non vada fuori e non vada fuori. No vada fuori e non vada fuori e non vada fuori e non vada fuori. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no.